Raddoppiare entro un anno e mezzo le tonnellate raccolte di carta e cartone è questo l'ambizioso obiettivo che l'amministrazione comunale punta a centrare grazie all'arrivo di tre nuovi cartonmezzi della Comieco presentati stamattina a Palazzo Zanca che serviranno principalmente esercizi commerciali e scuole. Un traguardo che si inserisce nei detami della nuova ordinanza regionale sui rifiuti che impone ai comuni di aumentare la raccolta differenziata del 3% ogni tre mesi. Questo è un progetto che è partito lo scorso anno grazie ad Alessio Ciacci e alla Comieco, un progetto che punta alla raccolta porta a porta per le utenze commerciali soprattutto per gli uffici e per le scuole e conta su tre mezzi e più su 5.000 castonetti piccoli e altri più grandi, 100 castonetti grandi e più 800 per gli uffici. Si implementerà questa raccolta del carta e cartone nel più generale progetto di porta a porta che sarà presentato la scorsa settimana dove presenteremo 34 nuovi mezzi e 30.000 castonetti. Insomma il momento della svolta sono finalmente due raggi di sole che attraversano questo cielo un po' cubo della gestione dei rifiuti in Sicilia.